ciao allora oggi vi voglio parlare di questa crema della bottega verde questa che io ho in mini taglia avete visto il video dove ho preso le mini taglie che è da 20 ml ma ho segnato il prezzo del prezzo pieno intanto vi dico di cosa parlo si tratta della crema moringa defense crema gel viso detox illuminante anti rughe allora è questa qui ve la faccio vedere ma vi dico il prezzo che è 50 ml prezzo pieno viene 37 euro e 99 ma me lo sono segnato è in promozione adesso a 19 e 99 e vi consiglio di guardare sempre le promozioni periodiche sia quelle online sia quelle in negozio oppure arrivano a casa le cartoline perché davvero sono le promozioni fantastiche e sono in prodotti scontati allora la crema dice di essere intanto leggendo ed è con olio di moringa e pelle da mista a grassa io vi ricordo che ho la pelle mista tendente al grasso e basta dice di stendere la crema con pastrelli con movimenti delicati dal basso del viso verso l'alto e dal centro verso i lati mi sembra quelli dell'aereo uscite di emergenza ok questo metodo dell'applicazione combinato all'utilizzo della crema aiuta a mantenere la pelle nel suo stato ottimale abbiamo imparato una cosa nuova se non sapevamo quindi dal basso all'alto perché tiriamo su e dal centro ai lati perché comunque la distendiamo sto pensando come la metto sì sì nel centro effettivamente massaggiando dal centro ai lati va bene andiamo avanti allora la crema me la mostro è questa qui e cosa dirvi intanto che sapete con la pelle mista tendente a grassa utilizzo questa crema alla sera perché di giorno sapete ormai che utilizzo solamente il siro comunque ha una texture che è in gel proprio adatta alla pelle grassa quindi texture in gel che si stende molto facilmente e assorbe immediatamente durante il giorno non trovo la pelle è ovviamente arrivato un corriere ok allora pacco ritirato e mi chiedo quando li registro il video perché se li faccio presto ci sono corriere a manetta che arrivano ed è corriere postino altri dei corrieri anche nel pomeriggio ci sono i corrieri quindi sarà un continuo stacca e attacca al pomeriggio tardi in teoria non passano più i corrieri anche se uno è venuto non so perché ma mi sono trovata un corriere alle 8 di sera ha detto che è normale arrivare a quell'ora non lo so effettivamente trova sempre qualcuno a casa effettivamente forse per l'azienda è un po scomodo ma perché ed è in casa è un orario che comunque dilagando sui corrieri la sera se li faccio sul tardi e quando rimbrunisce c'è la gente che comunque passeggia per la via perché panoramica e ci sono tutti i cani del circondario che abbaiano e quindi non anche se è tutto chiuso quando faccio i video non lo so comunque torniamo alla nostra crema della moringa allora vi ho detto dovrei guardare il video che ho registrato non mi ricordo più cosa vi ho detto ha una texture in gel leggera che assorbe immediatamente quindi adatta per la pelle mista e grassa di giorno non tende a lucidarla più di tanto però come base makeup con la pelle grassa non tiene niente è inutile però l'ho provato i giorni che non mi toccavo mi toccavo davvero poco di giorno quindi solo correttore ed è cipria ed effettivamente non mi lucido più velocemente però mi piace di più applicata la sera perché anche in estate è stata perfetta non mi sono mai svegliata con la pelle unta ed ho con la pelle appiccicosa anche se io non ho mai dormito con il clima non ho il clima ma non funziona quindi non ho il clima quindi questa davvero valida oltretutto devo dire che l'effetto illuminante detox illuminante non l'ho visto non esageriamo però comunque sia è una crema valida per il giorno o per la sera tanto non contiene spf ed è bella fresca la texture castro immediatamente cos'altro dire che potrei dirvi la profumazione è fresca non so definirvela fresca mi ricordo qualcosa di fresco e quindi ci sta allora e la pelle comunque l'ho sempre trovata bella idratata bella riparata anzi la applicavo anche dopo che facevo le maschere purificanti soprattutto quelle al carbone o all'argilla e davvero sentivo la differenza perché prima la pelle tirava e dopo la sentivo bella è natata quindi davvero poter idratante buono non mi ricordo se vi devo dire qualcos'altro di particolare interesse ma mi sono scritto tutto direi di no mi è piaciuta la crema idratante per la pelle mista che io sicuramente vi consiglio e che guardando le promozioni periodiche perché le cartoline di bottega verde arrivano e è inutile è sempre una strage ma davvero mi è piaciuta e quindi ve la consiglio ve l'ho fatta vedere ve lo faccio vedere per sicurezza l'ho messo a fuoco? sì perché sto guardando dallo schermino ma direi di sì allora direi che con questa breve recensione vi vedo tutto quello che c'è da sapere su questa crema fatemi sapere se l'avete provata e come siete trovate io come sempre spero vi sia stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscritti al canale e mi raccomando di cliccare sulla campanella così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricordi di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao